È durato otto mesi, l'assessorato Bissi di Giuliano Diodati, nelle ultime ore sono arrivate le dimissioni, perché questa decisione? In primo luogo per una mancanza di serenità personale nel rimanere all'interno di questa amministrazione. Io non condivido molti percorsi amministrativi che si stanno facendo. Col sindaco tante volte abbiamo parlato, espresso tante mie perplessità su alcune cose che si faranno e che sono in previsione di farsi nella città di Pescara. Mi riferisco per esempio all'area di Risulta, però devo dire che negli ultimi giorni dopo le elezioni provinciali sono stato sottoposto a un attacco da parte di gran parte degli esponenti del Partito Democratico, il quale mi hanno accusato addirittura di alto tradimento. Io voglio far capire loro che io sono un rappresentante di una lista civica, la nostra lista civica ha presentato il suo candidato presidente e quindi io non ho fatto altro che sostenere il candidato presidente della lista civica Abruzzo insieme. Io distinguerei due piani, cioè per me la politica non è tutto nella vita, ci sono i rapporti personali che rimangono, ci sono i rapporti politici che insomma indubbiamente mi fanno guardare a queste dimissioni con così, io mi auguro di sbagliare quando avverto un odore di trasformismo nell'aria, mi auguro di sbagliarmi. Poi l'augurio naturalmente è personalmente solo il meglio per l'assessore di Odati, la politica è un'altra cosa. Le prospettive sono quelle naturalmente di continuare nel nostro percorso, con un sorriso mi viene da osservare come gli assessori al bilancio in questo comune si sono susseguiti nel corso degli anni e tuttavia nonostante queste foglie d'autunno che cadono dagli alberi il bilancio del comune di Pescara resta solido, resta sanificato con l'avvio del piano di riequilibrio che è stata un'operazione molto seria. Le prospettive politiche sono quelle naturalmente per cui per stare insieme bisogna volerlo in due, penso che noi dobbiamo fare i conti e abbiamo fatto i conti con gli effetti delle elezioni che si sono tenute in un palazzo che sta sempre in questa piazza ma dall'altro lato della stessa, sto parlando delle elezioni provinciali di qualche giorno fa, in cui non poteva passare indifferente il fatto che comunque un pezzo della compagine del centro-sinistra ha favorito la vittoria del candidato del centro-destra, favorito nel senso che voi tutti sapete. Poi per quanto mi riguarda la vita naturalmente va avanti, io sono sempre dell'avviso che si debba essere accoglienti nella vita ma bisogna essere in due.